Tre giorni di festa, tre giorni dedicati a San Giovanni Battista, tra i più venerati del mondo e unico santo di cui si festeggia la nascita. Veglie è pronta a rendergli omaggio nel migliore dei modi. Appuntamento il 23, 24 e 25 giugno. È un evento consolidato perché la festa patronale San Giovanni Battista è il patrono di Veglie, ma soprattutto San Giovanni Battista piccicco, dicono a Veglie, perché appunto si va a festeggiare la nascita di San Giovanni, cosa che non accade per gli altri santi, perché per gli altri santi si festeggia il martirio, in questo caso la nascita di San Giovanni 23 e 24 come solennità religiosa, come momento di comunità, di aggregazione, una festa trasversale. Saranno tre giornate di devozione e tradizione per la comunità di Veglie, che costudisce già dalla metà del 1700 una delle poche statue di San Giovannino, opera ligna in stile varocco di scuola napoletana, una delle poche testimonianze pugliesi. Grazie alla celebrazione del santo protettore, ha sottolineato il presidente della provincia Stefano Minerva, noi salentini ci sentiamo comunità attraverso la devozione, la tradizione e il sentirsi uniti. Il ricco programma è stato realizzato da Proloco Veglie, amministrazione comunale, parrocchia San Giovanni Battista e Irene. Il ruolo è organizzativo, di selezione, insieme alla Puglia Armonica, di tutto quello che saranno i tre giorni di festa, quindi dalla scelta delle luminarie, degli artisti e anche tutto ciò che riguarda la parte religiosa in collaborazione con Don Piero. Il culto di San Giovanni Battista Veglie risale a diversi secoli fa, quasi certamente a prima del 1400. La statua veniva trasportata una volta all'anno in processione da Veglie a Salice Salentino, dove esisteva una chiesetta dedicata a Santa Elisabetta, madre di San Giovanni. Momento clu dei festeggiamenti religiosi sarà la processione in programma alle 19.30 di domenica 23 giugno. Significativo sarà anche lo spazio dedicato alle bande, con una succosa e originale iniziativa. Tra le novità più attese, questo aperitivo patronale, in buona sostanza di cosa si tratta? Si tratta di un vero e proprio momento di comunità, di festa conviviale con tutta la comunità di Veglie, che coinvolge appunto le nuove generazioni e anche gli adulti, i bambini. Insomma, sarà un momento di festa per celebrare San Giovanni durante la mattinata del 24 giugno. Un brindisi augurale per la comunità nella comunità. L'evento ha ottenuto il patrocinio della provincia di Lecce.